Guarda, meno male che hai fatto un'altra carriera, ti dico solo questo. Momenti di tensione durante la puntata di Amici 2021 in onda sabato 3 aprile su Canale 5 e condotta come sempre da Maria De Filippi. Tutto è nato dal giudizio di una prova di ballo da parte di Stefano De Martino, in giuria insieme a Emanuele Filiberto e Stash dei The Colors. L'ex marito di Belen Rodriguez ha provato a muovere una critica nei confronti della sua ex insegnante in relazione all'esibizione di Tommaso, poi eliminato. Forse era meglio non accettare il guanto di sfida, ha affermato De Martino, scatenando la reazione piccata della Celentano, che non ha mancato di pungerlo. Caro Stefano, per fortuna che hai cambiato mestiere, ha commentato. Pubblico in delirio, mentre Stefano non si è scomposto più di tanto, siamo in due, anche tu fai televisione e non fai danza, ha risposto. In pratica, Stefano De Martino aveva sottolineato come Alessandro, avversario di Tommaso nella prova di danza classica, fosse più preparato tecnicamente e la prova fosse quindi non equilibrata. La Celentano non ha accettato il rilievo, tanto da ripetere. La prova è in scena, si rischia sempre. Ribadisco, sono contenta che hai fatto TV, ha dichiarato. Il tutto sotto lo sguardo sorridente della padrona di casa, Maria De Filippi.